riuscirò a essere la signora della rapidità come quando faccio i video con mia sorella dubito fortemente ciao ragazze e benvenute in un nuovissimo video shopping night sono ancora vestita come stamattina sono sempre più sconvolta però ho ancora il mio cappellino l'ho tolto prima tra l'altro così mi sembra di avere i capelli tutti scuri mi fa un effetto un po' strano non mi vedete la faccia almeno sto così tutta chiusa no vabbè stiamo così mi sembrava più bella la luce ieri ma giustamente oggi è stata una giornataccia di pioggia ma io siccome sono arrivata un sacco di belle cosine anche se sono le 21 21 c'è qualcuno che mi sta pensando e vai perché quando sarà 21 21 vi faccio un video shopping night perché sono arrivate le cose spettacolari come faccio non farvele vedere ma senza troppi preamboli parto cercando di stringere stringere il cerchio per esempio sono arrivate queste sneakers di salomon taglia 39 e un terzo numero non taglia le stringhe sono dentro perché sono state lavate in lavatrice quindi sono tutte qua dentro sono due giusto quindi ricacciamole dentro molto molto nascoste sono delle salomon azzurre molto carine penso che siano comodissime non le ho mai avute le salomon ma chi ce le ha dice che sono comode comode scusate se strapparlo ma all'orario insomma tutto il giorno oggi è stata una giornata abbastanza piena e salomon 39 e un terzo o quel numero che ho detto prima esatto 39 e un terzo ragazze 6 euro e 90 top 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 lavate in lavatrice ovviamente sono ancora in ottime condizioni in buonissime condizioni per il prezzo che hanno poi sono arrivate delle lacoste bellissime queste invece sono un 38 bianche rosa in ottime condizioni pure loro ancora più in ottime condizioni delle salomon ma vicino numero 38 lacoste questo è un video con tanta roba interessantissima lacoste numero 38 bellissime per la primavera ragazze vengono 14 euro a fare scusate se vi faccio vedere la sola ma è per farvi vedere lo stato della scarpa volete fare anche se no ma mi sono caduti i fulari ecco così era caduto prima sono caduti qua i fuladini sono pieni di fulari in questo negozio se volete fare snorkeling ci sono anche delle scarpettine a snorkeling volete che io non ve le venda sono due diverse allora una è 38 39 e l'altra è sono uguali però 40 41 snorkeling anche al lago si può fare se avete i piedi dedicati tipo i miei che non posso toccare sassi e cose roventi scarpettine per fare snorkeling vengono 2 euro e 50 al paio ci stanno poi partiamo con i vestiti qua che sono spettacolari allora il primo che vi faccio vedere è una meraviglia vabbè io adoro danny rose lo sapete mi piace tantissimo e questo è bellissimo taglia 42 potrebbe andar bene anche un 44 perché lo vedo bello morbido è un abito in ottime condizioni appena giunto qua qui non ci si annoia mai perché arrivano sempre di quelle chicchette danny rose tutto drappeggiato qua romantico come vuole danny rose ma con quel tocco sexy che ha danny rose è stupendo questo abito leggerissimo bellissimo 42 44 la gonnellina arriva al ginocchio con la ruffinale è una meraviglia guardate le spalline ascesa e poi c'è anche gli spallini qua meraviglia questo ragazzi viene 11 euro e 90 ed è un affarone secondo me innamorata anche di questo blazer vintage perché ha dei colori che sono uno spettacolo ed è anche da boutique di angelo santagostino è vintage per me corrisponde a un 44 46 guardate la meraviglia di questo blazer parla da solo con questa fantasia da con questo verde acceso e questo tortora fantasia stupenda c'ha le spalline del vintage è freschissimo è bellissimo è purissimo è levissimo per quello che non mi annoio mai e non posso non farvi il video perché arrivo qua dove c'è il tavolo scopro queste chicchette e non resisto come faccio come si fa io poi amante del vintage come sono e amante del bello cioè non ha dentro nulla ma un bel tessuto leggero che meraviglia mi avvicino così vedete la trama all'occorrenza comunque ve lo posso misurare e questa meraviglia qua ragazzi viene 12 euro ma penso che sia un affarone per la primavera questo qua ragazzi se avete anche dei cargo grigi tortora beige neri bianchi ce lo mettete sopra anche con un total black sotto comunque anche un total grigio total gray questo spacca i sederi è bellissimo non oddio non da meno ho tante cose da farvi vedere quindi vado avanti questo maglioncino che è arrivato è un maglione taglia unica tutto traforato nero adatto per la primavera non fatevi ingannare ma è leggero vedete tutto traforato col collo così un po a ciambella all'americana taglia unica va bene fino a 46 e la manica un po ampia bellissimo anche lui semplicissimo sotto ci potete mettere qualcosa ve lo metto a 4 euro e 90 molto carino in ottime condizioni è bello perché è pesante ma leggero non so come spiegarti avete capito altra meraviglia della natura questo abito in 100 per cento lino di promoda taglia 44 che ha molto un sapore vintage è una bellissimo abito che mi ricorda tantissimo luisa spagnoli infatti pensavo fosse vintage poi mi avvicinai e lezzi promod guardate che meraviglia in ottime condizioni taglia 44 lino midi tutta la camicia tutto chemisier lui da solo vi completa l'outfit se siete taglia 44 mamma mia tipo con questi stivali qua spaccherebbe di brutto questi meraviglia delle meraviglie viene 9 euro davvero bello è un 100 per cento lino è leggerissimo per la primavera e anche queste cuciture a vista meravigliosa wow poi nessuno mi ha chiesto dei gilet ma fa niente sono arrivati due gilet quindi ve li faccio vedere il primo è nero classico taglia l quindi siamo sul 44 nero semplicissimo anche 42 può andar bene non mi sembra molto ampio in caso comunque ve lo misuro da portare aperto chiuso io questo lo porterei proprio chiuso con sotto mare un top a fascia una bralette questo sopra con quei pantaloni un po col cavallo vasso stile ixos mamma mia ma anche con un cargo sportivo e sopra questo elegante con sotto mare una t-shirt spacca davvero molto bello questo gilet è della fashion bow è carino elegante però lo porterei in maniera sportiva proprio per esomatizzarlo viene 4 euro dietro c'è il passantino bello l'altro invece che è un po più casual anche questo però super carino ed è di h&m taglia 42 jeans scuro questo proprio un 42 può andar bene anche a un 40 assolutamente mi avvicino così lo vedete bene viene 4 euro guardate che carino anche una parte dietro che un po più cortino questo vi risolve anche gli outfits lavorati in ufficio o in ambienti in cui non vogliono magari che siate troppo scoperte mettete su io lo usavo tanto quando ero in ufficio e mi risolveva un sacco di outfit questa è una jumpsuit una tuta leggera molto bella di lidl in collaborazione con edy clam edy clum quello che l'è la bionda praticamente allora qua mi ha fatto mi ha fatto se me la sto tirando sulla faccia va bene mi ha fatto ridere la taglia perché dice che è un'italiana 40 ora cioè ok va bene tutto però dai è un po più morbida del 40 qua siamo su 42 secondo me anche morbido tutta etnica è leggerissima non tuta tutta total etnico è leggerissimo è bellissima i colori sono spettacolari non sembrerebbe neanche una tuta di lidl ma in realtà la colazione la colazione aiuto è tardi la collezione di collaborazione secondo me ha fatto delle chicchette davvero spettacolari col pantalone così che scende strettino freschissima per l'estate c'ha pure la sua cinturina in tessuto viene 5 euro e 90 ed è in ottime condizioni sembra nuova ed è stupenda ragazze veramente oggi mi sono superata con le chicchezze perché sono una più bella dell'altra questo mi sono innamorata del tessuto ho cercato di capire cosa fosse comunque una taglia s vintage carolina pedrioni con sul simbolo del cavallo questo spolverino è una meraviglia guardatelo ed è leggero cioè sembrava di seta non lo so non l'ho mai visto una cosa così leggera guardate che meraviglia è una s comunque morbida molto ampio va portato over quindi può andar bene anche una m cioè parliamone io spero che voi vediate la bellezza di questo capo è stupendo c'è il bottone qua gioiello e poi bottoncini nascosti normali non bottonati solo due perché sapete con queste unghie lunghe che non mi consentono bene la la manualità nelle cose ma da quando le ho così lunghe infatti è cento per cento pes microfibra pes cento per cento poliestere l'interno e fuori pes non so cosa sia microfibro non so un tessuto meraviglioso fidatevi di me e questo qua ragazze viene 13 euro 90 prezzo bomba faccio la seconda parte e vado a rovinarmi da sola e e e e e e e